Doppio appuntamento in diretta dalla Cattedrale di Lodi per il prossimo fine settimana. Sabato 24 ottobre alle 21, la veglia di preghiera per la giornata missionaria mondiale. Domenica 25 ottobre alle 18, la celebrazione in onore di San Vincenzo Grossi e nel primo anniversario di ordinazione episcopale di Monsignor Maurizio Malvestiti, Vescovo di Lodi. Dalla Cattedrale di Lodi, due momenti forti per la vita della nostra diocesi, in diretta su Telepace. Benvenuti a tutti voi gentili amici a questa edizione del telegiornale dedicato all'Odigiano. Spazio informativo che apriamo parlando della visita compiuta nella giornata odierna dal presidente della regione Lombardia Roberto Maroni che tra le varie realtà della nostra città ha visitato anche l'ospedale di Lodi per presentare quelle che sono le linee fondamentali del nuovo sistema di welfare Lombardo ed in particolare le novità e conferme per quanto riguarda Lodi e Lodigiano. Lodi, pur inserita nell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano, rimarrà come azienda sociosanitaria territoriale con un incremento delle funzioni rispetto al passato. Tra le principali novità dell'assetto complessivo del welfare nella nostra regione è una migliore integrazione tra sanità e sociale e lo sviluppo di una organizzazione di tipo territoriale. Le aziende ospedaliere diventano aziende sociosanitarie territoriali, e le asle passano da 15 a 8, il tutto per un potenziamento della centralizzazione degli acquisti e una conseguente riduzione dei costi. Presentare le linee fondamentali del nuovo sistema di welfare Lombardo ed in particolare le novità e le conferme per Lodi, che pur inserita nell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano, rimarrà come azienda sociosanitaria territoriale con un incremento delle funzioni rispetto al passato. L'ingresso nella città metropolitana può essere utile per migliorare i rapporti con Milano, ma l'ospedale di Lodi, la nuova ASST, azienda sociosanitaria del territorio, avrà una sua piena autonomia, una sua specificità e le risorse adeguate per garantire servizi sempre migliori. Il senso della riforma è dare un servizio migliore al cittadino e cioè io entro in ospedale, sto pochi giorni perché mi hanno ridotto i tempi di intervento, bene, buona cosa, si risparmiano soldi, ma quando esco dall'ospedale sono guarito completamente, posso riprendere l'attività o ho bisogno di riabilitazione, di qualche cura? È così normalmente, ora con la nostra riforma sarà l'ospedale che dirà io ti ho operato e adesso vai in questo posto a fare riabilitazione. Quindi io cittadino mi sento preso in carico da quando entro in ospedale a quando sono guarito o a quando mi stabilizzo se sono un malato cronico. Questa è la novità importante che significa per l'ospedale attrezzarsi a occuparsi del malato anche quando esce dall'ospedale perché noi dobbiamo occuparci della persona finché guarisce, non finché esce dall'ospedale. Il territorio della provincia di Lodi sarà sotto la responsabilità quindi dell'ospedale di Lodi e per fare questo oltre al direttore generale, al direttore sanitario, il direttore amministrativo, ci sarà anche un nuovo direttore socio-sanitario dentro qua che lavorando in squadra potrà occuparsi di ciò che avviene fuori dall'ospedale. L'ospedale quindi non viene declassato ma anzi ha maggiori competenze, avrà anche maggiori risorse. Poi sarà compito della squadra di governo dell'ospedale metterle più sull'ospedale, più sul territorio, secondo le specificità territoriali. Nel complesso la riforma Lombarda rappresenta qualcosa che va oltre l'organizzazione del sistema sanitario nazionale. È una novità così rilevante che il governo di fronte alla nostra legge ha detto una cosa importante, ha detto la vostra legge cambia il sistema stabilito dalla legge nazionale. In questi casi il governo fa ricorso alla Corte Costituzionale perché dice hai violato la legge. Perché non l'ha fatto il governo? Perché ci ha detto è vero la vostra legge è difforme dal sistema nazionale ma la considero così avanzata e così sperimentale da mantenerla. Anzi facciamo una cosa, facciamo una valutazione insieme Regione Lombardia e Ministero della Salute nei prossimi tre anni. Se davvero funzionerà questo modello nuovo, io governo lo estenderò a tutte le altre regioni. Quindi abbiamo disegnato un modello che è il modello del futuro. E questa mattina sono accaduti due incidenti a breve distanza di tempo l'uno dall'altro che hanno dato origine a una lunga coda di auto arrivata fino a 7 chilometri di lunghezza lungo il tratto autostradale dell'autosole compreso tra Lodi e Meleniano. Il primo dei due incidenti ha visto coinvolti tre veicoli con un bilancio di nuove persone coinvolte e a incrementare il problema viabilistico un secondo incidente nei pressi di Meleniano di minore entità rispetto al precedente. Parliamo adesso del pellegrinaggio diocesano a Lourdes organizzato in collaborazione con l'Unitalsi un pellegrinaggio che è stato guidato dal vescovo di Lodi, Monsignor Malvestiti e dal quale hanno partecipato nel periodo compreso tra l'11 e il 16 di ottobre scorso 320 pellegrini. Abbiamo intervistato il presidente dell'Unitalsi Lodi, Carlo Bosatra. È un'esperienza davvero bella, ogni pellegrinaggio lo è, però per noi questo in modo particolare quest'anno che l'abbiamo vissuto per la prima volta con il nostro vescovo Maurizio. Veramente ci siamo sentiti chiesa uniti in questo pellegrinaggio, noi della diocesi di Lodi uniti alla diocesi di Brescia e di Milano in questo cammino di fede che è il pellegrinaggio. Quanti erano i pellegrini? I pellegrini erano 320 provenienti dalla diocesi di Lodi e in tutti eravamo 850. Che clima si è instaurato tra di loro? Ecco, il clima è stato davvero bello. È fondamentale questo, che tutti i gruppi si uniscano e si costituisca davvero questo gruppo unico che è appunto, come dicevo prima, la Chiesa. Ecco, è stato veramente bello questo. Ci siamo sentiti veramente uniti e tutti, per tutti, il vescovo Maurizio era il proprio vescovo. Qual è il tema che ha guidato il pellegrinaggio? Sì, il tema di quest'anno era la gioia della missione e questo è estremamente importante proprio in preparazione del giubileo dell'anno prossimo, cioè del giubileo della misericordia e più volte si è ritornati appunto su questo tema. Quali appuntamenti l'Unitar si ha in agenda? L'Unitar si è in agenda a due appuntamenti importanti. L'8 di novembre avremo l'elezione per il rinnovo di tutte le cariche del Consiglio di Sottosezione e poi il prossimo 20 novembre avremo in diocesi la statua della Madonna di Loreto. Con questo programma venerdì 20 l'accoglieremo presso il Carmelo e il giorno successivo, il sabato mattina, in Duomo ci sarà la Santa Messa alle ore 10, la Santa Messa solenne e al pomeriggio alle 15 il Rosario. Ha fatto tappa a Lodi una terra, una famiglia umana, ovvero il cammino diretto da Roma a Parigi in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima COP21. Un evento questo organizzato per il tratto italiano del percorso da Foxiv, di cui il Movimento per la lotta contro la fame nel mondo è membro federato. 15 pellegrini appartenenti a diverse comunità religiose della società civile, guidati da Jeb Sagno, ex negoziatore su cambiamenti climatici della Repubblica delle Filippine, sono partiti il 30 settembre da Roma in pellegrinaggio diretti a Parigi in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima. 1200 chilometri lungo i quali incontrare e confrontarsi con le diverse comunità per arrivare a Parigi con un bagaglio ricco di testimonianze. Questa mattina la tappa al Centro di Raccolta Solidale per il diritto al cibo di Lodi. Hanno deciso in maniera simbolica di organizzare questo pellegrinaggio che è partito il 30 settembre da Piazza San Pietro a Roma con la benedizione del Papa per proseguire in questi mesi fino alla capitale francese proprio per raccogliere simbolicamente le testimonianze della società civile in tema di cambiamenti climatici e preoccupazione legata proprio al tema dell'ambiente per la nostra società e soprattutto per le popolazioni del sud del mondo che inevitabilmente risentono più drasticamente del problema del cambiamento climatico. Quindi appunto questo gruppo ha deciso di realizzare questo cammino di incontrare esponenti delle istituzioni, delle società civili in 30 tappe italiane e altre tappe per il resto dell'Europa appunto fino a Parigi e di portarle simbolicamente alla Conferenza delle Nazioni Unite per cercare di cambiare qualcosa. Come si è svolta la tappa nel Lodigiano? Allora i pellegrini sono arrivati martedì da Piacenza a Castiglione d'Adda sono stati accolti all'interno della parrocchia hanno fatto una giornata di riposo non hanno fatto incontri su Castiglione ma li hanno fatti ieri su Lodi sono arrivati nel primo pomeriggio li abbiamo accolti alle porte della città e siamo andati alla sala granata della nostra biblioteca abbiamo deciso di confrontarci un po' con i pellegrini su cosa la città di Lodi sta portando avanti operativamente e anche simbolicamente sul tema appunto dell'ambiente e del cambiamento climatico e stamattina invece in partenza verso Milano hanno raccolto il pranzo al sacco al centro di raccolta solidale per il diritto al cibo e quindi hanno potuto vedere anche cosa la città di Lodi fa anche nel tema della tutela delle povertà Due segnalazioni prima di concludere a Lodi lunedì prossimo 26 ottobre dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16 il ponte cittadino sul fiume Adda sarà chiuso al transito veicolare mentre sarà consentito il transito pedonale lungo la passerella sulla direttrice tra piazzale Barzaghi e via Cavallotti Il blocco del transito veicolare sarà dovuto all'intervento che i vigili del fuoco dovranno mettere in atto per la rimozione di tronchi d'albero bloccati a ridosso di alcuni piloni del ponte stesso Il comune di Lodi segnala che i collegamenti viabilistici tra le due sponde del fiume saranno possibili utilizzando la tangenziale Est strade alternative saranno comunque indicate da segnaletica Altro avviso per domenica prossima dalle 9 alle 13 ci sarà l'open day della biblioteca Laudense in via Solferino a Lodi è l'occasione per portare una maggiore conoscenza della cittadinanza quelle che sono novità e servizi messi a disposizione dalla biblioteca di Lodi È prevista anche la possibilità di partecipare al contest Biblio dove tre selfie scattati con un libro in mano e che otterranno il maggior numero di like sui social diventeranno le immagini di copertina del comune di Lodi su Facebook per una settimana È tutto per questa edizione del nostro telegiornale Grazie a voi per averci seguito e arrivederci Grazie a voi Grazie a voi